Gianni Petrizzo conquista Roma e il festival X-World Short Film Festival, portando a casa ben tre premi con due cortometraggi in concorso, chiave di violino e i colori della memoria. Entrambi i lavori presentati nella sezione scuola del festival hanno confermato la capacità del regista cilentano di lavorare in sintonia con i giovani. Infatti il terzo premio, Excellent Director for Student, dimostra queste sue qualità. Gianni Petrizzo, classe 1971, nato ad Agropoli, lavora ormai da anni con istituti scolastici di tutta Italia, con i laboratori di cinema e campi scuola dedicati alla settima arte. Ha prodotto e realizzato la regia di circa 100 cortometraggi e lavorato con 150 istituti dirigendo oltre 8.000 studenti. Dedico questo mio premio all'amico e socio Francesco Cairone, ha scritto Gianni Petrizzo sulla sua pagina Facebook, con Francesco abbiamo ideato il festival Ciaxi Gita che è diventato un importante riferimento per la didattica cinematografica italiana. Un ringraziamento speciale va al docente Pino Gargiolo che ha scritto e sceneggiato chiave di violino e agli studenti del liceo scientifico Calvino di Opera a Milano che lo hanno interpretato. Un caloroso grazie va alla dirigente Rosa Orsi e alle docenti Lina Misasi Giuseppina Improte e gli studenti dell'istituto comprensivo Don Peppe Diana di Portici per il cortometraggio I colori della memoria. Infine ringrazio l'X World Shorts Film Festival e la sua direttrice Alex Guarino per avermi dato la possibilità di proiettare i due cortometraggi nel cuore di Roma nel Teatro degli Eroi, sede del festival. L'evento internazionale che ha avuto luogo il 28 e 29 dicembre 2019 è dedicato ai filmmaker indipendenti che hanno l'audacia di esprimere la loro fantasia, creatività ed idee originali attraverso i film, riuscendo a coinvolgere, sorprendere, entusiasmare e commuovere. Oltre 80 i film in concorso, tra corti, documentari, video, musicali, trailer e poster, molti sono stati registi e attori che da diverse città d'Italia, d'Europa ma anche dagli USA e addirittura dall'Australia hanno partecipato.